Fatto questi partiti, neppure quelli italiani hanno mai fatto qualcosa di serio e vero, anche in Europa, su questo problema. Il Movimento da sempre chiede una redistribuzione dei migranti e dei costi e anche una politica che possa andare a incentivare i rimpatri. Sul tema immigrazione e coinvolgimento dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, il Movimento 5 Stelle ha le idee chiare. Non si abbandonano le persone, non si alzano i muri, bisogna farsi rispettare. Le parole della candidata in Europa per i pentastellati Viviana Dalcin, in riferimento agli sbarchi mediterranei, ma anche alla cosiddetta rotta balcanica, rimarcano la linea di separazione con l'alleato di governo, la Lega, ma anche la critica verso l'atteggiamento degli altri paesi del continente sul fenomeno migratorio. Il Movimento 5 Stelle, appunto, è per non abbandonare le persone, si tratta di esseri umani, che hanno diritto alla piena dignità. Non toleriamo, naturalmente, quello che sfocia poi in criminalità. Quella è una cosa ben diversa e noi stiamo chiedendo, siamo gli unici che hanno da tempo alzato la voce in Europa per farci rispettare. Dobbiamo prendere atto che c'è un problema vero e non fare come Salvini, che in Europa non ha mai fatto niente, non si presentava neanche agli accordi internazionali con gli altri ministeri, suoi omologhi, europei. I paesi di Visegrat sappiamo bene quanto siano invece contrari a un aiuto all'Italia in questo senso, non vogliono un migrante solo nei loro paesi e per di più rifiutavano pure di dare i finanziamenti, i fondi europei che aspettavano all'Italia, perché dicono con la politica espansiva che stiamo facendo, reddito di cittadinanza o quota 100, non avete diritto di avere i fondi europei. Noi che siamo i contributori netti dobbiamo prendere le regole da loro che sono i ricevitori netti. Tutti devono rendersi conto che le coste italiane sono coste europee, non sono un problema nostro.